Noi stiamo facendo un test rapido che ci dà il risultato in un quarto d'ora circa. Ad essere sottoposti ai test sono stati tutti i 75 bimbi della scuola di infanzia Tretti, fino a ieri chiusa a scopo precauzionale, dopo che una loro insegnante era stata rilevata positiva la scorsa settimana. Lo Sberica ha disposto così le modalità di riapertura della struttura. Le tre sezioni entrano da tre entrate diverse proprio per evitare quello che è l'assembramento e mantenere le regole di base, insomma, anti-Covid. Questo test è assolutamente una cosa, diciamo, poco invasiva. È un piccolo cotton fiocca all'interno del naso, si entra per qualche centimetro. Per la maggior parte dei bimbi è stata la prima volta del tampone. Ovvio che non sia stato proprio facile per tutti affrontare la novità, ma la promessa di una piccola gratificazione ha permesso anche ai più timorosi di assecondare gli operatori bardati quasi da astronauti. I bambini sono bravissimi. I genitori sono fuori, aspettano, dopodiché una volta terminato il tampone dovranno comunque attendere fuori circa una mezz'oretta l'esito per poter poi far rimanere o meno i bambini in classe, insomma. Una volta finito questo... Una volta finito questo la scuola riprende normalmente. Grazie. Grazie. Grazie.